Sono totalmente estraneo ai fatti. Si dichiara così il sindaco di Foggia, Franco Landella, nell'ambito dell'inchiesta denominata Nuvola d'Oro, condotta dalla Procura della Repubblica di Foggia e dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bari, a seguito dei riferimenti rivolti alla sua persona in alcune intercettazioni oggetto dell'indagine, in cui viene indicato come il quinto destinatario della quota parte di una tangente. È evidente, dalle conclusioni della magistratura, che ogni riferimento alla mia persona è frutto solo di millanterie e mai di un mio diretto coinvolgimento, ha chiosato il primo cittadino che attualmente non rientra tra gli indagati. Un vero e proprio terremoto, quello che nelle ultime ore sta scuotendo dunque le fondamenta del palazzo di città del capologo Dauno. A seguito dei risvolti dell'indagine, inoltre, il prefetto di Foggia, Raffaele Grassi, ha disposto alla sospensione di Bruno Longo dalla carica di consigliere comunale. Longo, assieme ad altre tre persone, è accusato di induzione in debita a dare o promettere utilità. Secondo l'inchiesta di Procure e Finanza, i quattro indagati avrebbero costretto il legale rappresentante di una ditta di informatica di Campobasso a farsi consegnare una tangente di 35.000 euro in tre tranche, quale compenso del pagamento delle fatture emesse dalla sua stessa società nei confronti del Comune di Foggia. Secondo il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia, i quattro destinatari della misura cautelare ai domiciliari, oggetto di intercettazioni ambientali, progettavano di continuare nella loro attività estorsiva nei confronti dell'imprenditore molisano o di altra persona meno refrattaria del primo a consegnare il denaro. Il pericolo di reiterazione del reato ha dunque portato il GIP a ordinare gli arresti domiciliari, una spiacevole vicenda giudiziaria che gettano poche ombre e imbarazzi sulle camere di regia della maggioranza politica dell'amministrazione comunale. Dopo gli arresti, tutte le forze politiche di centrosinistra e il Movimento 5 Stelle hanno chiesto le dimissioni del sindaco leghista Landella e di tutta la sua maggioranza.